Fronte compatto a Urtona con gran parte della cittadinanza e le forze politiche che si schierano decise attorno al no del progetto del deposito GPL. Si tratta di cinque serbatoi metallici ad asse orizzontale sotterrati per lo stoccaggio e lo scarico di GPL per complessivi 25 mila metri cubi. Lo stabilimento se realizzato sarebbe il terzo più grande d'Italia con un investimento di circa 50 milioni di euro. Sarebbe costituito da due zone di intervento, un'area di scarico nave e una di deposito. Il progetto porta la firma della Sistoc, società controllata dal gruppo Walter Tosto. Il consiglio comunale di Ortona ha approvato all'unanimità la delibera contraria al deposito mentre le associazioni ambientaliste hanno giudicato la scelta del GPL antistorica e pericolosa. Inoltre il senatore Paolo Arrigoni, responsabile regionale di Noi con Salvini Abruzzo, ha depositato presso il senato un'interrogazione parlamentare indirizzata ai ministri dello sviluppo economico e dell'ambiente. Arrigoni ha chiesto se le procedure amministrative sin qui adottate per l'approvazione dell'impianto, compresa la valutazione ambientale della regione Abruzzo, siano corrette. Ovviamente si è anche sottolineato il dissenso della popolazione ortonese. Il coordinatore cittadino di Noi con Salvini, Rocco Ranalli. Questa volta è scesa in campo anche la cittadinanza di Ortona che ha capito il problema dell'eventuale insediamento da parte della Sistoc e ha manifestato in modo massiccio, in modo convinto, il proprio no e in effetti motivandolo anche con degli aspetti di natura tecnica perché effettivamente questo insediamento è pericoloso. Basti pensare che lungo via Cervana, che è l'unica arteria stradale di collegamento da porto e anche la zona turistica degli stabilimenti balneari, ogni giorno ci sarebbero un via vai di 50 automezzi pesanti, gasiere, che porterebbero appunto questo GPL. Quindi io vi lascio immaginare che cosa potrebbe succedere nel caso di incidenti, di tamponamento, oltre al caos del traffico per se stesso. Quindi si dice no, ma i pericoli sono ancora in atto o no? Beh sì, perché intanto la ditta sta andando avanti, noi continueremo, sia per quanto riguarda le forze politiche del centro-destra e inviteremo la cittadinanza di Ortona a continuare a manifestare appunto perché non vogliamo che questa spada di Damocle, che è proprio una spada di Damocle, penda sulle nostre teste per tanti anni. Grazie.